Musica Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video del capriccio dell'iscritto Anche questa settimana rieccoci con questa serie malata sul tubo Che sta prendendo sempre più piede Che ciò mi fa piacere Però non mi piace che io devo incularmi ogni volta Cose da mangiare, cose da bere, tutto quello che possa succedere Comunque questa settimana come avete visto dall'intro Abbiamo un qualcosa di strano Ovvero ho riempito questo bicchiere Questo bicchierozzo, un bicchiere normale Si dovrebbe riuscire a vedere, ok? Questo bicchiere di succo di limone Succo di limone intendo non quelli comprati già fatti Ho preso i limoni e proprio li ho spremuti Ho spremuto circa sette limoni e mezzo Per riempire tutto sto coso Perché l'ho fatto quasi fino al bordo Perché voglio che mi basti ogni kill Prenderò un sorsetto di questo coso Ricordo che è limone puro Non c'è aggiunta di acqua Non c'è nulla Il profumo è buono Perché l'odore del limone è molto molto buono Però a me non piace il limone come agrume Quindi Non osate immaginare le facce che farò durante questo video Allora Sono usciti i bonus Scusate le mappe nuove di Call of Duty Le mappe uprising Che non ho comprato perché non ho i soldi per adesso Quindi GG Andiamo a fare questa settimana Un deathmatch a squadra Che cazzo Andiamo a fare un deathmatch a squadra Benissimo Come ho detto in detto Lasciate tanti mi piace per questa serie Consigliatemi sempre Il capriccio dell'iscritto Che Devo fare la prossima settimana Consigliatemi davvero tanti Perché ogni volta è un problema Cercare di capire quale capriccio devo fare Perché Me ne dite davvero tanti Che sceglierle è davvero difficile Devo fare quello con la cannella Lo farò vi giuro Solo che mi devo preparare mentalmente Appunto non so quando farlo Perché Quella cosa può fare molto male alla salute Quindi devo preoccuparmi Comunque Sono le Che cazzo Non ho un orologio Quest'anno tipo le otto e mezza Ehm Ho finito di cenare Tipo un quarto d'ora fa E Devo bere qualcosa Probabilmente O sboccherò Cosa molto probabile O Cagherò a spruzzo O Mi laverò l'intestino con limone Oppure brucerò tutti i grassi Comunque Questa è per iniziare la partita Questo deathmatch a squadra Ehm Come ho detto prima Farò un sorsetto piccolo Ogni kill Perché mi deve bastare Per tutte le kill che farò Anche se non Se non penso di fare moltissimi kill E quest'oggi Come vedete la maglietta Non è di quei due tizi Che scopano Ma è di Superman Guardate quanto è bella Cazzo Ok basta Parlare delle magliette Tanti piace per Superman 1,2,3,4 A posto Intanto, intanto, intanto Eccoci qua in drone Minchia non gioco in drone Da una vita E sto offriendo il piacere Ho rimesso Mi ho ripreso un pochetto A giocare a Call of Duty Grazie ad Xmori Che ci sta nerdando In questo periodo Come Gesù comanda Ehm E appunto Sto giocando con lui Solo perché appunto Gioca lui Perché da giocare da solo Mi rompo un po' il cazzo E sto iniziando A fare il paciente Intanto 60 di ping Che cazzo di connessionato Cristo Ok basta E iniziamo subito Questo capriccio dell'iscritto Capriccio dell'iscritto Oh figlio di botta Eh insomma Bravo Minchia Sotto a po' fuori Toguchi Ehm Non so perché con l'ultima patch Di Call of Duty Sto code mi gira D'addio Cioè sono tipo quasi a 200 No 200 un cazzo Tipo a 180 Una cosa del genere Prima stavo un pochetto più basso Ma adesso Gli fps sono dato che sono Un pochetto più alti Oppure sono io che non gioco Da tanto tempo E quindi non me ne sono re Ma porco No Cioè sono connessionato Ok adesso ti vengo a prendere Bruttissimo Testa di cazzo Perché Mi devo bere il limone Ed io ti vengo a prendere Brutto stonzo Intanto facciamo la cosa tattica Faccio lo stronzo Tipo così Taglie Porca cazzo Crisoio Sì Ok Prima kill Ok Che cazzo sei Ok Quindi farò un sorso Molto più Oh ho fatto un assist Quindi sucate Solo un sorso faccio Ok Eccoci qua Prendiamo il succo di limone Allora È brutto È brutto Giuro che è una cosa bruttissima Odio il succo di limone Odio il limone Come agrume Ve l'ho detto già Mi brucia il petto Perché non sono abituato A berlo E tipo Non metto mai Da nessuna parte Il limone Tipo Quando magari Facciamo la brace No Tipo si mette il limone Dovunque Io non lo voglio Perché mi fa schifo Comunque devo bere Un altro sorsetto Ok Forse rutterò Come Cristo comanda Ok Benissimo Ok Mi bruciano le labbra Perché ce l'ho un pochetto Screpolata Quindi Bacetto a tech Ok no Va benissimo Non date i bacetti a tech Ma lasciate tanti Mi piace a tech Perché così lui È tanto felice Quindi mi piace questo video Mi piace il video Bravi Eh What's E per dio Quello sto Comunque sto facendo Una partita di merda Perché non mi sto concentrando E quindi Andiamo proprio A maxare tutti Perché Devo Knife runner noob Eh sì Perché devi capire Che knife runner Sono Ma picchio muore Ma vai cosa Guarda porco Ultimamente Quando muoio Tendo a battere Sempre le mani Per incazzatura O Tendo a battere le mani Per Applaudire Intanto se ti Se ti uccido Sono proprio il più killer Dai Ok allora ti vengo a prendere da qui Molto molto pene Ti faccio Ti aggiro Ti vengo a A stuprare Oh che cazzo Ma vedi Stubro online Molto bene Molto molto bene Non è un problema Per tech Tech riesce anche a Oh guardate che faccio Le belle kill Orca puttana Due kill Attenzione Devo fare un sort Anzi ne faccio due Perché farne uno Sarebbe da suicidio Quindi L'altro Tanto il livello scende Come vedete Sto proprio Mi viene da sboccare Non so perché Ma mi fa schifo Sto succo di limone Mi brucia tutto Tutto Tutta la bocca Dello stomaco Ah tavolo Piatto Come si suol dire Dalle mie parti Che sarebbe il diaframma Ma non c'entra Eh non c'entra niente Ma comunque Vabbè Allora ragazzi Ho già una salivazione acuta Perché il limone Provoca salivazioni strane E quindi Tendo a A ingoiare sempre saliva E ficchia in saliva Non vi dovrete Porca puttana Sto facendo Ok cambio arma Sto paciere ha rotto Egregiamente Il cazzo Va benissimo Ehm Dove Dove siete Allora Ho cambiato arma Perfetto Non ho cambiato un cazzo Grande paciere Intanto facciamo la cosa Popovax Figlio di No Gli ho tirato la claymore In faccia Guardate la kill Figlio di puttana Quanto camper Sti stronzi Ah Meglio Allora Sto facendo una partita Del kaiser Ma probabilmente Proprio del kaiser E devo Oh L'msm ci si fa sentire Già Very good Sorsetto di A salute Beh Probabilmente andrò a finire Sui video Quelli Tipo che fanno Le compilation Delle facce più strane Quando si mangia il limone No Probabilmente andrò a finire In uno di questi video Su Camilano Stronzo Anche tu Pezzo di merda Ok Vediamo se qua c'è qualcuno Ok ma posso camperare Per farmi due Bezorsetti Di Di merda Qui E' la cosa più brutta Di sto mondo Posso capire succo E' acqua C'è limone e acqua Ma tutto succo no E' proprio brutto Mi sto facendo del male Voglio Cazzo ne so 4.000 mi piace a questo video Perché se no Non faccio più capriccio Dell'iscritto Ve lo giuro Stronzi di merda Adesso Stete tutti stronzi Mori Ma proprio sono schillato Vedete nel msmc Come Cristo va Va Alla biossa Si Che è forte Un attimo Devo fare due sorsi Porcaccio Chi sei tu Porcaccio Tu Porcaccio Tu Vaffanculo Drone Non farmi bere il limone Drone del cazzo Anche l'UAB Che potrebbe essere utile Dotto la mia scuola sta perdendo Io sono in positivo Dopo che ho messo un msmc Sono andato in positivo Questa Succhiami tutto Lo scuro Dove sei Si è finita Di un bicchierazzo Ne è rimasto Tanto Vedete dov'è Cioè Prima era qui Adesso è qui Cioè Adesso è qui Prima era qui Quindi ho fatto piccoli sorsi Ho fatto dodici sorsi Di sta merda E mi brucia tutto qui Cioè guardate qui Dove c'è l'essere di superman Fra poco qui Very good Quindi ragazzi Siamo giunti al termine Di questo video Come sempre Stronzi Se il video è piaciuto Invita a lasciare un bel mi piace Consigliatemi il nuovo commento Si nuovo capriccio In un commento Qua sotto E Probabilmente adesso Dovrà sboccare Andrà a cagare a spruzzo Come ho detto all'inizio del video Ciao